Se la statua di San Matteo non può entrare nel comune di Salerno il 21 settembre, a questo punto non può entrare nemmeno tre giorni prima. Alla luce del rifiuto della curia di rivedere il programma della processione per il Santo Patrono, richiesto dal sindaco con una lettera inviata dall'arcivescovo, Napoli ha deciso di cancellare l'appuntamento fissato per il 18 settembre. Una sorta di compromesso che era stato trovato per ovviare alla cancellazione della tradizionale tappa nella serata della processione. Per il comune del resto, accogliere la statua tre giorni prima avrebbe significato anche uno sforzo organizzativo ed economico supplementare, visto l'impegno per il 21, con l'illuminazione per la facciata del comune e della chiesa, le transenne lungo il percorso, l'attività di polizia straordinaria, i turni dei vigili urbani ed il contributo economico per i fuochi. Noi crediamo che la tradizione abbia un suo valore. Ripeto ancora una volta che ho difficoltà, fermo restante l'assoluta autonomia, ci mancherebbe altro, del vescovo di fare le sue considerazioni, la sua potestà su questi aspetti liturgici, chi sono io. Però io sono il sindaco di Salerno, questo sì, e credo che debba difendere, come è giusto, i valori dell'istituzione comunale e i valori della cerimonia che vedeva l'ingresso di San Matteo nel comune di Salerno durante la processione. non era un inchino perché l'inchino è tutt'altro, lo si fa a persone discutibili, a situazioni incresciose. Il Sandro sarebbe entrato nella casa di tutti i cittadini, limpida e trasparente, e avrebbe ricevuto lui l'omaggio dei cittadini, non il viceversa. Allora io ho difficoltà a capire perché può stare alcune ore nel lato del comune e non entrare durante la processione. Francamente è un cortocircuito logico nel quale faccio difficoltà ad entrare. Naturalmente ho un profondissimo rispetto della Civesco, che per altri versi è un uomo assolutamente degno della missione che svolge, ha una sua spiccata intelligenza, una sua spiccata autonomia, ma su questa cosa non ci troviamo. Mi avete comunicato che domani non ci sarà. Ho parlato con Don Michele e ho detto che uno sforzo organizzativo importante in una giornata feriale era probabilmente sbagliato, mentre invece lo si poteva fare durante lo svolgimento della processione. Noi naturalmente abbiamo partecipato all'omaggio floreale con il vice sindaco. Parteciperemo alla processione con il gonfalone e con una presenza istituzionale per significare il nostro profondissimo rispetto per il santo e per la tradizione della processione e per la Chiesa salernitana. Però credo che questo sia un momento in cui fare delle considerazioni semplici e credo che le abbiamo fatte.